Gentile cliente, per offrirti un servizio più sicuro, da settembre 2019 entra in vigore la nuova normativa sui pagamenti digitali. Ecco le nuove modalità di autenticazione per accedere alla tua banca online e per autorizzare le operazioni dispositive. Accedi inserendo codice utente e password. Accendi il nuovo token, premi il tasto 1, copia nell'apposito spazio il codice apparso sul display e conferma. Per confermare un'operazione dispositiva accendi il token e premi il tasto 3. Digita sul tastierino del token le otto cifre mostrate online e premi OK. Apparirà sul display del token un secondo codice, copialo e conferma. Se sei l'amministratore della postazione e hai creato delle utenze locali, accedi al menu Funzioni utente, Elenco utenti e registra un cellulare per ogni utenza. L'utente abilitato accede inserendo codice utente e password. L'autenticazione avviene tramite chiamata di sicurezza. Per completare l'accesso chiama dal cellulare registrato il numero verde e digita sul telefono il PIN mostrato a video. Buona navigazione!